Adriano Aragozzini, ospite di Serena Bortone a oggi è un altro giorno, ha raccontato un curioso rituale caratteristico di Gino Paoli. Nella puntata del 26 giugno di oggi è un altro giorno, a fare notizia è stato un particolare momento di imbarazzo che ha coinvolto tutto lo studio. Artefice di questo peculiare siparietto è stato Adriano Aragozzini, storico giornalista e produttore discografico. Ospite al programma di Serena Bortone, Aragozzini ha raccontato alcuni aneddoti sui personaggi popolari che ha conosciuto nel corso della sua carriera. A spiccare, quello su Gino Paoli. Adriano Aragozzini ha raccontato la storia della sua amicizia con il cantante, arrivando a rivelare un particolare rituale caratteristico di quest'ultimo, lui prima di cantare, si fa una seà. Non si è fatta attendere la reazione di Serena Bortone e di tutto lo studio, a metà tra il gelo e l'imbarazzo per le parole di Aragozzini. Il noto produttore, tuttavia, ha voluto raccontare ulteriori dettagli sul curioso rituale di Gino Paoli. Aragozzini ha spiegato che quando conobbe Gino Paoli, lavorava come giornalista per il settimanale Oggi. Una sua collega aveva ricevuto l'incarico di intervistare il cantante, ma non poteva portarlo a termine perché imbarazzata dalla confessione di Gino Paoli. A sostituire la collega fu proprio Aragozzini, che fece una nuova intervista con lui. Non aveva l'idea di come fosse Gino Paoli all'epoca e gli chiese, lei prima di cantare cosa fa? Errore clamoroso ha spiegato il noto produttore discografico, raccontando dell'intervista non conclusa della sua collega.